Hello Kitty vive qua giù, fiocco rosso e nasa l'insù, al villaggio viene anche tu, viene anche tu Ciao a tutti, eccomi con un video dedicato alla Pasqua e dedicato a Hello Kitty In qualche video precedente vi ho fatto vedere che avevo acquistato l'uovo Paluani Hello Kitty Precisamente questo è Hello Kitty e My Melody Quindi all'interno possiamo trovare sorprese sia di Hello Kitty e sia di My Melody Ah mi piacciono entrambe, anche la coniglietta è davvero tanto carina, io per l'occasione ho messo anche le orecchie da coniglietta Allora qua l'ho Paluani, cioccolata al latte finissimo, fantastiche sorprese, originale ovviamente L'uovo è 200 grammi, questo qua lo pagai 9,50 euro Ricordo di averlo preso il venerdì santo La carta è veramente bella Guardando un po' su internet ho visto c'è chi ha trovato il portachiavi di Hello Kitty e chi ha trovato il portachiavi di Melody Diciamo che a me piacciono entrambi perché Hello Kitty vabbè ovvio che mi piace Melody non ho fatto nulla quindi mi farebbe anche piacere avere qualcosa della coniglietta Guarda la carta è stupenda La carta è bellissima Allora vediamo un attimo la carta che è davvero bella Tutta fucsia abbiamo Hello Kitty e Melody che preparano la torta Qui che passeggiano mano nella mano Poi Hello Kitty a telefono, anzi tutti e due stanno al telefono Come sono belline Troppo belline Ecco l'uovo L'uovo è piccolino perché in effetti è 200 grammi Opla Dove scappi? Non fa rumore Comunque la carta è davvero bellissima Allora la cioccolata Palluani è ottima Io ho aperto quello là da un chilo della Trudi E quindi devo dire la verità Vediamo, vediamo cosa è uscito Il portachievi di My Melody Com'è bello Meglio perché io non c'ho nulla della coniglietta La maggioranza delle cose ce le ho di Hello Kitty In effetti è un po' difficile trovare Melody Che bellina Con le rette chi è data come me Com'è bella Oddio Allora la coniglietta è di gomma morbida Quanto è bellina Col ponfon rosa Madonna che odore di cioccolato Ma la Palluani è buonissima comunque Davvero buonissima Ecco qui, questo è il portachievi Che lo si può appendere ovviamente dovunque Anche qua Che bellina Ma come sei Come tenera My Melody Ah ecco Qua fa vedere i portachievi che si trovano Se no si straccia Allora in pratica si possono trovare Due portachievi di Hello Kitty E due di My Melody Quindi abbiamo My Melody Questa qui come sta Niente sta passeggiando col pon pon verde Hello Kitty Col pon pon verde Poi pon pon rosa E pon pon rosa Beh con il pon pon rosa è più bello però Bello Pon pon dangler Eccolo qua Che carina C'è l'orecchiera da come me E questo è l'uovo di Hello Kitty Mi chiamano così Adesso proviamo anche la soccolata Che già so che è buonissima La Palluani è ottima È davvero buona Ok Il video si conclude qui Io vi saluto E alla prossima Ciao ciao Ciao